Dopo il grande successo di partecipazione dell'edizione 2017, il gruppo speleologico della sezione CAI di Salerno ritorna nelle grotte di Pertosa a Oletta per replicare la manifestazione Diversamente Speleo. L'attenzione quest'anno sarà rivolta a persone con disabilità visiva, ma anche ad atleti disabili che praticano varie discipline sportive. In entrambi i casi si tratta di persone che hanno saputo combattere con i loro limiti e trarne forza per vivere la loro vita senza limitazioni. La manifestazione si intitolerà In Ascolto del Silenzio e sarà incentrata sul tentativo di dimostrare che la bellezza della natura è percepibile attraverso tutti i nostri sensi. L'appuntamento è per domenica 27 maggio alle 9.30 davanti alle grotte. Potranno partecipare 20 persone diversamente abili accompagnate da uno o due familiari, ciascuno dei quali avrà l'assistenza di uno o più volontari speleologici. La manifestazione durerà l'intera giornata e prevederà, dopo l'escursione, un momento di socializzazione tra tutti i partecipanti che terminerà con un pranzo offerto dall'organizzazione. Nell'occasione saranno inaugurate delle tabelle di ausilio per i non vedenti. Nei prossimi mesi, inoltre, le grotte di Pertosa saranno accessibili per gran parte del percorso turistico e anche per il tratto in barca alle persone con disabilità motoria attraverso l'installazione di una piattaforma che consentirà la salita e la discesa dalla barca di persone in carrozzina. Intanto sono state già eliminate alcune scale per consentire la visita fino alla sala più grande delle grotte. Per informazioni sulla giornata di domenica, telefonare allo 0975 39 70 37. Grazie a tutti.